Grazie a tutti. Perché credo ci siano state delle perplessità a concedere l'utilizzo della sala gialla dei Palazzo dei Normanni perché c'era la presenza di un ex detenuto, quale ero io. E quindi ho consigliato agli organizzatori di non fomentare la polemica ma di spostarci in un altro posto dove siamo stati ben accolti perché era una struttura dei padri erogazionisti di Annibale di Francia dove la gente è venuta copiosamente, tante persone. Abbiamo parlato delle carceri assieme al professore Fiandaca e è andata bene lo stesso. Mi dispiace che qualcuno abbia voluto spostare o non concedere la sala. Non mi appartiene come cultura però va bene così. Ho sopportato cose ben più gravi per considerare questa scelta una cosa che possa fare male. La considero una scelta e basta. Lei ha scontato la sua pena ormai e si sente comunque un emarginato? Io ho scontato la mia pena per intero, nel senso che credo sia l'unico detenuto politico ad averla scontata per intera. È uno dei pochissimi in Italia, tra tutti i detenuti, ad averla scontata per intero, nel senso che non ha avuto nessun beneficio di detenzioni domiciliari, di affidamento, di permessi. Mi hanno persino negato la possibilità di andare a trovare mia madre. Quindi credo di aver fatto quello che è giusto ogni cittadino faccia, che è chiamato a scontare una pena, a rispettare la sentenza e andare avanti. E però, in questi anni, che ho coltivato una mia passione che ho avuto da sempre, quella di leggere, mi è capitato di leggere anche un grande autore francese, tra i tanti, Victor Hugo. E mi colpì molto quando in uno dei suoi bellissimi libri scrisse, detenuti si rimane per tutta la vita. Evidentemente chi ha pensato di non concedere l'assemblea perché c'era un ex detenuto ha ritenuto che Victor Hugo in quella frase avesse ragione, nel senso che per lui detenuti si rimane per tutta la vita. E devo dire che forse anche dentro di me uno spirito di detenuto rimane per tutta la vita, nel senso che, anche se motivi diversi per quelli per cui il Presidente non ha concesso la sala, io credo che nel mio cuore, nella mia testa, c'è ogni giorno e ogni notte la presenza della mia cella, delle persone che ho lasciato in carcere, delle loro speranze, delle loro illusioni, dei loro sentimenti, delle loro angosce, delle loro paure. Continuo a viverle anche fuori dal carcere. Quindi capisco che Victor Hugo ha detto una cosa bellissima quando ha detto detenuti si rimane per tutta la vita. Una frase che mi ha colpito, che ha rilasciato un'intervista qualche mese fa, ha detto lei Io ho sbattuto contro la mafia. Cosa vuol dire? Vuol dire che, credo di essere nella mia coscienza assolutamente sincero, quando so di non aver mai voluto favorire la mafia. Ho sempre rispettato il lavoro degli inquirenti della magistratura e ancora più quello della giudicante. E penso che se la magistratura ha ritenuto di processarmi e di condannarmi per un reato così infamante, che io so di non aver mai commesso, credo che in qualche modo abbia pensato che qualche errore io l'abbia fatto e probabilmente io di errore ne ho fatti tanti. Quando dico sono andato a sbattere contro la mafia, dico che probabilmente, come quando uno ha un incidente, non certo pensa di poter andare a fare l'incidente volontariamente, di andare a sbattere, però può capitare che nel corso della guida uno abbia un incidente, anche se non lo vuole, anche se ha fatto di tutto per evitarlo, però ce l'ha lo stesso. Io anche se so di aver fatto tutto per evitare di poter essere contagiato dal fenomeno mafioso, so di aver fatto quanto possibile per compatterlo istituzionalmente, amministrativamente, culturalmente. Basta guardare le leggi, gli impegni, i finanziamenti che ho fatto per la legalità, per i commissariati, per i carabinieri, per la finanza, per la posizione. Ecco, tutto questo denota che la mia volontà culturale e amministrativa di governo era contro la mafia. Però, se la magistratura ha deciso che in qualche modo io abbia avuto a che fare, posso solo pensare che sia andata a sbatterci involontariamente. E' servito anche questo per accettare la sentenza, non soltanto perché accettarla è un dovere, ma perché sia un diritto mio quello di rispettare la giustizia e le sentenze sono il frutto della giustizia. Io non so cinque anni fa, però oggi, dopo cinque anni, per Totò Cuffaro la mafia cos'è? Ma per me la mafia oggi è esattamente quello che era cinque anni fa. E' un fenomeno criminale schifoso, dissacrante e pericolosissimo, che fa pagare alla Sicilia e ai siciliani un prezzo altissimo, non soltanto in termini di vite umane lo ha fatto, ma anche in termini di cultura, in termini di immagine e soprattutto anche in termini economici, perché la criminalità economica mafiosa fa pagare un prezzo ai cittadini siciliani. E quanto di peggio possa esserci oggi nella nostra società infiltrata, nascosta, più o meno. E però bisogna fare i conti con questa realtà e avere la forza di combatterla. E la mafia non si combatte soltanto con le forze di polizia e con la magistratura, che devono fare il loro dovere e lo stanno facendo. Ma credo che da solo questi farebbero una lotta iniqua, difficile, nel senso che non riuscirebbero a spondarla. Allora io sono convinto che per battere la mafia è necessario che ci sia l'impegno della società e dei cittadini e dei siciliani nel far crescere una nuova e più forte cultura della legalità, a cominciare dalle piccole cose che denotano una cultura legalità, a cominciare dal pensare che il pezzo di strada che sta fuori casa tua non è di nessuno e lo puoi oltraggiare, ma è anche tuo ed è della società ed è di tutti e va rispettato. Questo è importante perché da lì si può costruire una nuova idea. E poi soprattutto dall'impegno politico e amministrativo nel creare le occasioni di sviluppo e di lavoro. A chi viene raggiunto dalla mafia, per essere assoldato bisogna dare un'opportunità di scegliere tra diventare criminale, fiancheggiatore della mafia e poter vivere legalmente nella legalità e nella società civile con un posto di lavoro. Quando questi non ce l'hanno il rischio che inseguano la criminalità per avere qualcosa per cui vivere è altissimo e allora ecco che la politica deve sapere fare questo. Tutto questo insieme diventa una lotta vera alla mafia. Come uomo politico lei non si sente un po' responsabile per aver contribuito a questa figura di Sicilia uguale mafia? Beh, devo dire che purtroppo la condanna infamante che pesa su di me e che ho scontato ha certamente contribuito a dare della Sicilia un'immagine sempre più equivoca perché quando il presidente eletto da due milioni di siciliani viene condannato per aver favorito la mafia è chiaro che purtroppo finisce col danneggiare l'immagine della Sicilia, dei siciliani e della regione. Questo lo avverto e lo sento come una grande responsabilità che grava su di me, sulla mia testa, sulla mia persona. So in coscienza di non meritare una condanna per aver favorito la mafia anche se so di aver fatto tanti errori in politica ma non quello di aver voluto favorire la mafia. E però questa è la sentenza che oltre aver fatto scontare cinque anni difficili e nella sofferenza di galera a me sta facendo pagare e ha fatto pagare anche un prezzo alla Sicilia. Se poi ci sommiamo che anche dopo di me è seguita questa purtroppo dramma di in qualche modo di essere accostato con la mafia e anche questo continua a creare un problema ulteriore alla Sicilia. Purtroppo è così. Però io credo che una domanda bisognerà apporsela. Se quasi tutti i presidenti della regione siciliana in qualche modo hanno avuto qualche problema io credo che bisognerà ragionare su questo per capire cosa concretamente si possa fare. Dico quasi tutti perché ci sono alcuni che hanno avuto problemi ben più gravi, quelli di essere ammazzati dalla mafia, per essere chiari, quale Piersanti e Manterello. Ma se tanti altri hanno avuto in qualche modo problemi io credo che bisognerà porsi un interrogativo e capire cosa concretamente la politica può fare per evitare che questo abbia a succedere nel futuro. Cioè quello che dice lei è come se la mafia cercasse di infiltrarsi a tutti... Questo lo dico perché la mafia certamente si infiltra dove c'è il potere, dove c'è la possibilità di fare economia, di fare soldi. Questo è sicuro. Adesso bisogna trovare il vaccino giusto e gli anticorpi giusti per evitare che questo possa succedere anche inconsapevolmente da parte di chi in quel momento rappresenta le istituzioni. Perché la mafia è in condizioni di saper fare anche questo, cioè di infiltrarsi utilizzando volti puliti, persone pulite, società pulite, gente assolutamente fuori da ogni dubbio e da ogni perplessità sul loro ruolo e poi invece scopri quando... ecco perché dico sono andato a sbattere, scopri che invece dietro questa parvenza di legalità ci stavano interessi della mafia. E credo che questo purtroppo sia capitato a me, ma continuo a capitare ogni giorno. Anche adesso basta vedere le ultime indagini che ci sono da Palermo a Catania, a Caltanissetta, a Siracusa, per capire che purtroppo così succede. No, e allora bisognerà trovare gli anticorpi e le protezioni giuste perché nel futuro la Sicilia non abbia a pagare un prezzo così alto. Grazie a tutti.